Questa volta non lascerò che nessuno resti indifferente. Attirerò l'attenzione, ma sul serio. Tu, il re del surrealismo che fa un documentario. E perché no? Se a Natale vinco alla lotteria, te lo pago io, il documentario. Hai un indecenso, hai uno scandalo. È terribile. Luis, sono io, Ramon. Ho vinto alla lotteria. Noi andremo alla Sur de Saltas, che è la zona più povera. Questo non è un film convenzionale, Ramon. Questa è la realtà, pura e nuda. Dovremmo essere venuti qui per cambiare le cose, per aiutare questa gente. Non per andare in giro a giocare a fare gli artisti. Questa messa in scena si addice più a Daliti a te. Tutto assume un significato diverso. Tutto 건 la cena. Grazie a tutti. Grazie a tutti.